Buonasera, per ritrovare l'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di alcuni temi economici di estrema attualità e lo facciamo avendo in studio il professor Pino Mauro, economista. Buonasera professore. Allora professore, io inizierei da quella che è stata la notizia della giornata di ieri, che è l'allarme lanciato da Confindustria Abruzzo sulla ormai prossima scadenza della misura dell'incentivo post-Covid che venne lanciato nel 2021 della decontribuzione per le aziende del mezzogiorno relativa agli investimenti e soprattutto alla nuova occupazione per circa un 30% dei costi. C'è la scadenza di questa misura determinata da una scelta che si fece a suo tempo di prorogarla di volta in volta con Bruxelles che adesso non verrà reiterata, quindi a fine giugno mancherà questa bovola d'ossigeno ai tempi del Covid. Ora mi sembra che si era quasi in qualche modo strutturata, professore, per le aziende del mezzogiorno. Le teme delle ripercussioni, se ciò dovesse avvenire in termini occupazionali, visti anche i dati molto favorevoli degli ultimi mesi? Credo che la cosa sia un po' preoccupante perché ci sono almeno tre aspetti da prendere in considerazione. Il primo che ha rappresentato ovviamente un abbassamento dei costi per le imprese e questo mi sembra, poi perché ha ridotto le disuguaglianze sul piano sul mercato del lavoro. E in terzo luogo perché abbattendo i costi le imprese hanno creato delle aspettative per il futuro per poter effettuare degli investimenti. Quindi è stato un elemento di coesione sociale molto importante. Questo lo possiamo constatare in maniera molto più precisa, molto più diretta, quando andiamo a vedere i dati. Ad esempio la nostra regione, l'Abruzzo, ha avuto una crescita occupazionale del 4% ed è stata la seconda in Italia come regione, come crescita. E quindi questo significa che ha avuto un effetto moltiplicativo sul territorio. E poi anche il mezzogiorno ha avuto questa crescita, inferiore all'Abruzzo ma intorno al 2%. Quindi il fatto che sia aumentata l'occupazione in un contesto in cui il prodotto interno lordo, cioè il tasso di crescita dell'economia non è stato molto esaltante, testimonia che questa riduzione dei costi per il lavoro ha significato un avvenimento secondo me di grande significato. Senza poi dimenticare che venivamo dopo la pandemia e quindi anche ha significato, ha rappresentato un momento di crescita per l'intero territorio e per l'intero sistema economico. Quindi direi che bloccarla potrebbe significare un passare indietro. Questo anche perché ciò accadrebbe nel mese di giugno che è il mese chiave anche per l'eventuale proroga dei contratti a termine. Molti contratti di lavoro sono anche nelle realtà industriali più importanti a scadenza semestrale. Quindi potremmo aspettarci un'estate autunno con sorprese negative se non dovesse arrivare un negoziato e un provvedimento nella trattativa con Bruxelles? Ma io ritengo di sì perché come dicevo prima noi abbiamo avuto la possibilità per la prima volta di superare il tetto, parlo dell'Abruzzo, di 500.000 posti di lavoro. Che è un fatto direi di grande importanza almeno se noi lo confrontiamo con il passato. Ora adesso di fronte a una situazione che blocca questo procedimento, questa prospettiva, è chiaro che le imprese dovranno rifare i conti, dovranno guardare al bilancio in maniera diversa rispetto al passato. E non è detto che questo possa incidere sugli investimenti. Quindi noi potremmo avere, secondo il mio punto di vista, due effetti negativi. Il primo effetto è quello appunto della riduzione dei posti di lavoro nell'ambito del mercato del lavoro. E in secondo luogo una riduzione degli investimenti proprio in un contesto, cioè all'indomani di queste crisi, dove l'economia dovrebbe appunto avere un passo in avanti molto sostenuto. Le previsioni, per esempio le stime che vengono fatte al momento sul prodotto interno lordo, sono stime che usciranno intorno all'1%. Quindi una percentuale non molto elevata per consentire un assorbimento del mercato di nuova occupazione. Ecco perché è importante continuare con la decontribuzione. Proprio per sostenere in questa fase di transizione all'indomani delle guerre, all'indomani della pandemia, un processo di crescita che al momento, ripeto, non è un processo di crescita molto sostenuto, ma è piuttosto contenuto intorno allo 0,9% l'1%. E' un tema che creerebbe difficoltà al mezzogiorno, in particolare proprio come diceva lei, alle regioni di frontiera che più stanno uscendo da una situazione di difficoltà come l'Abruzzo. Nel contesto più generale, oggi si parla molto del tema dell'autonomia differenziata, che però riguarda soprattutto i servizi pubblici, ma potrebbe avere delle ripercussioni anche economiche. Che cosa occorre fare anche alla vigilia degli impegni che le forze politiche stanno prendendo sulle politiche di coesione per il mezzogiorno dal punto di vista dell'analisi che lei svolge sui contesti economici e in particolare quelli delle imprese? Io credo che la cosa più importante in questo momento è proseguire con questo sostegno all'occupazione, perché questa crisi ha allungato fortemente i margini tra top, tra la parte più alta e la parte più bassa del ceto sociale. E ha alimentato un processo di disuguaglianza che è molto molto sostenuto. Questo primo aspetto della decontribuzione significa appunto coesione sociale, significa appunto la possibilità di superare questo problema delle disuguaglianze. E in secondo luogo c'è un altro aspetto che a mio avviso merita grande attenzione, di cui si parla molto poco, è quello dell'inverno demografico. È un altro tema di grande attualità che sta avendo risvolti sia per il mezzogiorno, ma soprattutto per la nostra regione risvolte estremamente negative. Lei ha letto gli ultimi dati dell'Istat sul censimento di due anni fa e che confermano questa tendenza. Si conferma una tendenza, noi abbiamo un indice di vecchiaia sia a livello meridionale, ma ripeto anche con riferimento all'Abruzzo, che è elevatissimo ed è superiore alla media nazionale. Quindi l'inverno demografico, il sostegno alla demografica, che per noi può cosa significa? Significa sì per il mezzogiorno in generale, ma l'Abruzzo ha una particolarità che è quella delle aree interne. Infatti se noi dividiamo per aree troviamo proprio che sono le aree interne a risentirne maggiormente di questo processo di denatalità che comporterà nel futuro problemi molto elevati per quanto riguarda il processo innovativo, per quanto riguarda l'inserimento dei giovani, per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Tutta una serie di effetti che potranno poi essere molto gravi nel futuro. Se noi constatiamo che la popolazione, l'occupazione si concentra negli anni 40, all'interno degli anni 40, che questi anni 40 possono via via essere tendenzialmente portati verso il basso, ma è proprio questa fascia d'età che garantisce il processo di sviluppo e non viceversa le classi più avanzate. Quindi questo è un altro tema da considerare. Assolutamente, si collega benissimo con il tema che le sto per sottoporre, che è legato proprio soprattutto alla terza età, il tema del risparmio, perché ci sono dei dati recentissimi che lei appunto ha sollecitato anche all'interesse del nostro pubblico dell'Istituto Tagliacarne relativa ai risparmi delle famiglie abruzzesi. Dati che parlano di un calo, adesso lei ci spiegherà nel dettaglio, professore, io le chiedo subito, anticipando quella che sarebbe stata la mia seconda domanda, se questo calo dei risparmi degli abruzzesi è legato a delle scelte finanziarie o uno stato di necessità. Io credo che noi abbiamo avuto in quest'ultimo periodo, i dati sono relativi al 2022, abbiamo avuto in quest'ultimo periodo un problema molto grosso che è quello dell'inflazione. L'inflazione ha ridotto fortemente i salari reali, i salari reali sono diminuiti di circa il 7% in due anni, non solo, ma se noi andiamo a proiettare questa questione anche con riferimento agli anni 90, vediamo che mentre ad esempio in Germania i salari sono aumentati di circa il 30%, in Italia sono diminuiti del 2,9%. Ora, che cosa ha significato questo? Ha significato che di fronte a salari reali più bassi la popolazione, le famiglie non hanno avuto più margini per poter continuare a risparmiare come era una volta, noi avevamo tassi di risparmio elevatissimi, tant'è vero che si diceva che era necessario sostenere di più il consumo. Oggi invece la Melaia si è un po' capovolta, nel senso che in questo momento non avendo una capacità di risparmio molto elevata, perché tutto il reddito va verso i beni di consumo, è chiaro che il risparmio tende a diminuire. Noi siamo intorno, c'è una differenza ad esempio tra nord e sud, intorno al 32%, le province abruzzesi sono collocate nella fascia più bassa, ad eccezione dell'Aquila, quindi siamo intorno a valori del 6-7% come tasso di risparmio. Quindi sta crollando un pilastro dell'economia familiare? Un pilastro dell'economia familiare, siccome il risparmio è quella componente che poi garantisce il processo di accumulazione, cioè garantisce gli investimenti privati soprattutto, è chiaro che vi possono essere di percussione da questo punto di vista. Quindi questo è un campanello d'allarme che riguarda soprattutto la crisi che c'è stata, ma un salario reale che non è più in grado di procedere, di provvedere anche al risparmio. Un altro segnale di questo è sicuramente in crescita, lei mi confermerà, del fenomeno del credito al consumo, cioè famiglie che si indebitano per gli acquisti, diciamo anche di prima necessità in qualche modo, più che per la casa o per altri ben importanti. Certo, certo, ma anche questo si avverte quando noi andiamo ad analizzare le tendenze del sistema bancario, delle varie articolazioni, cioè il credito alle imprese e il credito ai consumatori, dove c'è appunto un forte allentamento per quanto riguarda il credito al consumo. Questo dovuto anche all'aumento dei tassi, ma quindi all'aver scoraggiato, almeno fino a qualche settimana fa, i mutui che sono in calo e adesso c'è una minima ripresa perché i tassi si stanno calmirando. Ma professore, a questo fenomeno legato appunto a temi legati all'inflazione e al diminuito potere d'acquisto di stipendi, salari, anche le pensioni, si unisce anche un tema di carattere funzionale legato alla carenza anche della competitività delle offerte bancarie sul territorio abruzzese. Quindi questo spopolamento, diciamo, di istituti di credito che sono legati al territorio, un fenomeno che negli ultimi dieci anni è stato molto evidente, cioè questo scoraggiare i risparmi è anche legato a questo? Ma secondo me anche questo influisce molto. Noi abbiamo avuto un calo degli sportelli bancari via via progressivo che ha rappresentato l'abbandono di tantissimi comuni ed è il primo cambiamento che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Il secondo cambiamento che abbiamo avuto è l'eliminazione dal mercato delle cosiddette banche locali che prima rappresentavano un po' il cuore pulsante del sistema bancario regionale e meridionale. Oggi questo non c'è più e quindi molte grandi banche tendono ad allontanarsi anche per motivi di economia di scala dai piccoli comuni. Sono rimaste come banche locali e banche di credito cooperativo che sono presenti, però nel complesso noi abbiamo un abbandono da parte del sistema per motivi di costi presso i piccoli comuni e questo chiaramente influisce anche su quell'aspetto di cui stavamo parlando prima. Quindi ci sono tutta una serie di cambiamenti nel sistema economico che vanno colti a un momento opportuno per cercare di porre in essere opportune rettifiche. Abbiamo indicato prima l'inverno demografico, c'è questo problema del risparmio, c'è il problema della competitività, perché una volta che finisce la crisi, come mi auguro, torneranno che cosa in campo? Due termini, la globalizzazione e la competitività. Quindi le nostre imprese devono essere in grado di affrontare queste sfide che stanno aprendo sul mercato. E noi saremo, professore, se l'è d'accordo, pronti anche dopo la pausa estiva a rianalizzare questi fenomeni in un autunno che, come lei ci ha anticipato, va monitorato con grande attenzione, anche con qualche preoccupazione. Grazie al professor Mauro, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento domani sera alla stessa ora con Il Fatto di Reteotto. Arrivederci.